Raccontiamo di sapori, colori e bontà della nostra terra. Esaltiamo la bontà del cibo con la freschezza dei prodotti locali e le primizie di Sardegna. Ristorante-pizzeria Il Quirinale da Tony. Nel cuore della nostra Sassari, l'indirizzo giusto per riscoprire il piacere della tavola. Vieni a trovarci in Via Cavour 3. Saremo felici di servirvi e racconterete di noi. La Raymond Handball Sassari vince a Bolzano e ritrova la vittoria nella Serie A Beretta. Nell'undicesima giornata del massimo campionato, i Rosso-Blu vincono in trasferta e riprendono la loro corsa verso le parti nobili della classifica. 27-26, risultato finale in terra alto a Tesina. 60 minuti estremamente equilibrati che hanno consentito alla squadra sarda di guadagnare i due punti che li portano a quota 15. Coltiviamo da sempre le vostre storie. Ce ne prendiamo cura anche quando il sole è nascosto. Le facciamo germogliare fino al suo ritorno. Insieme fioriscono e prendono nuova vita. Floregarden. Con noi la differenza si coglie.